Oggi presentiamo l'Avanzo 2023, oltre un milione di euro, e abbiamo già utilizzato l'Avanzo 2022, circa 3 milioni di euro, quindi 4 milioni di euro in opere pubbliche, penso quelle più grosse, diciamo dei 3 milioni sono 2 milioni e 4 nel pala Dionigi per portarla a 10 metri 1500 posti, sono 1 milione e 200 mila euro per portare a 180 posti il nido di Pian del Busco da 120 più 60, 3 Aula in corso, e poi sono un'aggiunta di 300 mila euro sui 500 mila euro che portano 850 mila euro gli asfalti 2023, e abbiamo messo diciamo circa 200 mila euro per, anzi 270 mila euro per la manutenzione delle caditoie, delle acque chiare, perché le acque chiure e scure le tratta marche multiservizi, abbiamo messo oltre 100 mila euro per diciamo la risistimazione del circo di bottega, stiamo lavorando su un'area che riguarda il parco fluviale del Foglia, stiamo lavorando fino all'ultimo giorno del mandato e con diciamo il rispetto ai cittadini, agli elettori, io ho avuto devo dire tanto calore, tante simpatie di tante persone, a prescindere dalla loro appartenenza politica, a chiedermi la disponibilità ad essere ricandidato a sindaco di Vallefoglia. Ci ho pensato molto, primo sono scaramantico, ho aspettato la legge, il decreto e che Vallefoglia fosse sotto 15 mila abitanti, ma c'è scritto nel decreto e come vedete sono pronto, sono disponibile, sono un combattente che ha sempre dato una mano per migliorare, per fare le cose importanti per la città di Vallefoglia. Quindi l'impegno mio è fare ancora di più e meglio, se gli elettori lo vorranno, se ci daranno consenso, la nostra è una lista civica di persone per bene, oneste, serie, che vogliono fare le cose per il bene dei cittadini, sono nati e cresciuti in questa vallata, in questo territorio, quindi se il popolo mi eleggerà farò di tutto e di più per non deluderlo come sempre.